Oggi giocheremo probabilmente alla mappa più brutta di sempre di Roblox, ovvero Shower Simulator Avete capito bene, dobbiamo giocare una mappa dove ci si fa la doccia E ragazzi, come va? Io sono Fioriniki Io sono Stef e qui si chiama Roblox E siamo tornati con le nostre tre mappe in uno Oggi inizieremo da Shower Simulator Che io non ho ancora capito perché dovremmo giocare a farci una doccia Però è così Io, guarda, l'ho vista e mi sono sentito proprio toccato dentro Ho detto, no, questa la dobbiamo fare per forza Perché non ti fai mai la doccia e quindi dici, finalmente me ne posso fare una? No, guarda, non lo so Diciamo che ho sentito un sussulto al cuore quando ho visto la mappa E quindi ho dovuto per forza prendere e cliccare play, ok? Hai problemi se senti sussulti al cuore con ste mappe, te lo dico, te lo dico Ho problemi se mi siedo così Ma guarda, aspetta, ci sono diverse posizioni, aspetta Aspetta, 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 così Ma no, ma a me siete sempre uguale Non è possibile, non è che in base alla panchina Ma tu perché non hai l'accappatoio? Eh, mi si è tolto per sbaglio, però guarda adesso No, non funziona No Non ti puoi fare la doccia con i vestiti Il mio vestito da pirati va sopra ogni costume, mi sa Non è possibile Cambia, ah no, bastava cliccare Ok, io mi sono messo in cost... Ciao Tutto bene? Me ne vado Andiamo a farci la doccia insieme Scappo È un maniaco, aiutatevi Mi stai seguendo un maniaco Sono qua i costumi da uomo Mettiti un costume decente, per favore Sì, guarda È anche peggio Ti prego, trovane uno Ok, più o meno, dai Sì, va bene così, va bene così Forse dovresti rimetterti quella da donna Questo mi piace di più Ok Dobbiamo fare la doccia normale Perché ci sono anche diverse docce, a quanto pare Vieni Cosa vuol dire che ci sono diverse docce? Che ci sono diverse docce, c'è quella standard, quella da un'ora Sono tanti tipi di docce, tutte diverse l'una con l'altra, ok? Va bene Allora, qua dice, attenzione pavimento bagnato Ma se ci posso, cado? Non lo so Peccato Non c'è nulla in sta mappa Ah, quindi che facciamo? Cioè ci mettiamo qua e facciamo la doccia? Sì Allora, io ho anche un asciugamano Ah, premi due Ok Premi due Ah beh Ovviamente ti lavi Eh, sì Cioè, aspetta Qua si tratta di un simulatore Scugale, scusa Fatto benissimo Non so perché ho insultato la mappa Cioè, guarda Hai pure i movimenti perfetti di quando ti lavi Una mappa così realistica Non l'avevo mai vista Non me l'avevi detto che era così bella però Cioè, io ero preparato a giocare una mappa brutta Invece è fantastica Eh, sì Me lo dai il cappellino almeno? Oh, grazie Anche se c'è anche quello da pirata Vabbè, dai Vabbè, neanche così Continuo a lavarmi Qua ci vuole una canzone Perché ci facciamo la doccia Quanto ci hai messo a mettertela? Che fai? No, ero scioccata per la tua canzone Quindi Eh no, non l'ho neanche fatta Perché non eri indocciata a me Grazie E non mi sentivo No, no, allora non ci starò Guarda, non ci starò Mi dispiace per te Qua c'è pure quella per i VIP ovviamente Perché guarda Ma disgraziati Ma non la piscinona Con i giocattoli e lo scivolo Questa dovrebbe essere nostra Ma almeno così Era decente Lo mettono per VIP L'unica cosa carina Io non vorrei dire Non vorrei dire Ma dovrebbe essere per noi Dovremmo avere l'accesso Proprio che neanche ci pensi Aspetta 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 Per fare la doccia da un'ora Devi stare un'ora nell'altra doccia Ma un'ora reale? Allora Contando da quanto stanno Salendo lentamente Mi sa di sì Cioè Secondo loro Io dovrei restare così Un'ora 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 Chi ha creato la mappa Esattamente cosa stava pensando Guarda volevo dire qualcosa di simpatico Ma cioè non ci arrivo Ti giuro Non ci arrivo Ok Non ci arrivo Troppo anche per me Troppo Sono abbastanza scioccato Cioè mi aspettavo Io continuo a farmi la doccia Una doccia da due minutini Non da un'ora Che devo fare Vabbè Ma non è che ogni volta che clicchi il sinistro Fai un punto Ma quando mai? Guarda Cioè sono proprio minuti E poi penso che non siano minuti della doccia Ma minuti di quanto resti dentro la mappa Perché li stavamo facendo anche senza essere dentro la doccia Vedi? Non lo so Andiamo in un'altra mappa per favore Non la sopporto più Me ne vado E ne mentre mi asciugo E adesso giochiamo una mappa davvero davvero fantastica Si chiama tipo Mega Challenge E' una specie di speedrun 4 Quello che avevamo fatto Esatto In un'altra delle tre mappe in un video Come si chiamava? Tre mappe in uno Tre mappe in uno Non mi vedeva più Lo sai che hai problemi con i nomi Dicevo è molto simile ma più figo E ho scoperto anche che Lo sai chi l'ha fatto? I creatori di Deathrun Della mappa di Deathrun Ah figo 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 L'ho scoperto da poco quello Comunque è super fantastica Adesso vi faccio vedere Devo fare per forza l'allenamento Non so per chi mi hanno preso Però devo farlo Cioè prima di tutto guardate Ditemi che non è fantastico Mi ricorda troppo Super Mario Non so perché Perché non ha niente a che fare Con Super Mario Però è difficilissimo Lo stile delle mappe Capito? Questo tipo di gioco è difficilissimo Ed è il tipo di gioco che io odio Esattamente Totalmente Perché mi fa solo venire il nervoso Cioè è pieno di cose È pieno di cose Anzi l'allenamento è pure semplice Pensa poi i livelli Quando li dovrei fare Beh sì però ragazzi Non devo fare nulla Tipo queste cose ci sono Che sono bellissime Ti fanno saltare Ci sono cose che ti schiacciano Sì c'è di tutto Di tutto E il primo è completato Ci sono riuscito Rido se fossi caduto in terra L'avrei riso tantissimo È il momento anche per te Ma perché corri in modo strano? Non lo so Ma ti vedi anche te fare così? Perché tu come corri scusa? Corri? Corri così Vedi? E se è uguale a me Che pretendi? Guarda il mio schermo Ok Corri verso di me Non ti capisco Guarda vedi? Ma anch'io ti vedo correre con la testa verso l'alto Però io non mi vedo così Io corro così Esatto Però io ti vedo diverso Sei bruttissima Io ti vedo correre così Con la testa così verso l'alto Cioè sei terribile No tu sei ancora più brutta Facciamo finta di nulla Andiamo qua Giusto? Proprio zero dignità Sì andiamo insieme a fare il primo livello Carini e coccologi Oh no Vieni Il numero uno Perché li devo fare anch'io? È perché sono felici tutti Se lo fai anche tu Ti ho steso solo entrando nella ma Sì infatti Vabbè Che è successo? Ci sono Non lo so io sono partito Ok vai Aiuto Ok questo è semplice Superiamo Super salto C'è il phon Mi ha già preso il call Dicevo Dove è finita E scopro che eri già morta Perché l'ho convinta di fare un tempismo perfetto Invece no Ok Mamma mia No ma ci sono anche delle spine Ok le ho schivate Salto No è difficilissima comunque questa mappa Cioè dove dovevi andare adesso? Dove dovevo andare? Dove? Dove? Fatemi capire Dopo che cade andiamo Ok Andiamo Ok No io li odio sti giochi Ci vediamo dopo questo Ok L'odio Calma 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 attenta È fermo Ho preso il martello fermo Sì Totalmente Perché pensavo che nel frattempo si muovesse Lo so Quindi ho detto così ci vado dritto Invece no Infatti ti ho detto fermo Perché ti volevo proprio Il martello è fermo Ho sentito E sono morta Capito? E ti sei lanciata di faccia su un martello Eh lo so Eh lo so Ok Va bene Che fortuna Bravura Aspetta le spine Vai Ok vado Tacchete Tacchete Adesso Devo andare lì sopra Ma Come? No secondo me non devi andare lì sopra Tacchete Tacchete Provo a non saltare Vedere cosa succede Ok Sì Quando sei in quello non devi saltare Capito? Ah ok Ok Vabbè Molto strano Molto particolare Oh yes Ma quanto è divertente Solo a te piacciono Da dove sono arrivati Quei pugni? Solo a te piacciono Non è vero Anche un sacco di consolini hanno chiesto Ma non è vero In nome della mappa Dicendo che è troppo divertente Ma non è vero Sei bugiardo No no un sacco di consolini dicevano Divertentissimo Best mappa Sempre Ever Nice Non è vero Praticamente le odiano Tutti ste mappe Perché tutti cadono E tutti sclerano Come me Ma è proprio quello il divertente Non è divertente sclerare Assolutamente no Sì Sì ma questo cos'è Dai fanno un altro Vai Cos'è questo? Penso che siano semplicemente altri livelli Perché ci sono le challenge e i livelli normali Un po' strano Ah Provo a fare questo No ma non è che è stato fatto da qualcuno? Non lo so Provo Allora Stiamo attenti Tre pugni Oh boom Almeno cadono in contemporanea No quanti martelli ci sono? Tantissimi Vado Schivo Corro Ok Aiuta Qua c'è un super salto Attento Mi l'avevo visto Anche io Vado Cosa? Cosa? Cosa è successo? Non lo so Sono rimbalzato tipo una biglia Ma no Stai andando benissimo Hai visto che c'era anche un orologio? Mi ha confuso quel salto Boom boom Praticamente rimbalzi e torno indietro Sì torno indietro Stranissimo Che figata Ci siamo? Ah Ci siamo Cosa devo fare? Schivare Mi ha tagliato in due Guarda che Capitan Jeff Poverino L'hai visto cadendo da solo Poverino No adesso è una questione d'orgoglio Cioè sinceramente Nessuno qua mi taglia in due E mi separa da Capitan Jeff Avete capito? Comunque anch'io appena le ho viste Ho detto le devi schivare Ma sono velocissime Esatto Infatti io pensavo Ok ci vado Inizio a saltare E invece è troppo veloce No sono troppo veloci Probabilmente devi correre via in qualche modo Non lo so Vado vado Mi fermo qua Ok Ok cerca di E poi dove si va scusami? In quello? Questo? E suppongo di sì Ok Allora Adesso Corro 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 E salto No è impossibile Cioè poi dove devi andare? Torna lì Ah Ecco Ah ecco Eh sì Eh sì Perché questo è quello da dove arriviamo Quindi non è Certo No vedi Mi sembrava troppo lungo come salto Sembrava strano Allora Steph non fare errori stupidi Andiamo Ok Dritto 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 Uh yes Adesso ho paura Adesso come l'ho Accidenti Ma quanto è lungo ancora scusami Tantissimo Io pensavo di aver finito Ok 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 Dai che ci siamo Lì c'erano delle spine nascoste secondo me Te lo dico Ok Martello schivo Aiuto Mamma mia Aspettiamo il martello Non è da pazzi sta cosa Corro 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 Di nuovo salto Di nuovo salto Curvetta Allora qua ce n'è uno Ma secondo te è una fine questa? Credo No? Non lo so Non lo so Cioè se no qual è il divertimento? Arrivare il più a lungo possibile Capito? L'altra è fatta a livelli Mentre invece questa secondo me Deve resistere il più a lungo possibile Dici? Ma dai ma no Mi sta venendo il dubbio Ma ormai la voglio finire Allora tu la vedi Ah forse è lì su ok Perché dicevo io non ne vedo fine Vado Vado Vai Ok 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 Adesso aspettiamo sinceramente Allora cadono in contemporanea Sono due sono tre Sono due ma No sono tre Sono tre Sono tre Sono tre Ti prego Scorometti come in aspettare Esatto Non ero sicuro di essere nel punto giusto Eh neanch'io Vai Sì Bravo Nice Vedi Che soddisfazione incredibile nel finire C'è anche un Però sei ancora arrabbiato No Sì che lo sei Adesso sono felicissimo Non credo Sì Perché so di aver finito la mega challenge Anche se poi ci sono i singoli livelli Ho finito la mega challenge Quindi sono soddisfatto di me stesso A me non interessa avere questo tipo di soddisfazione Quindi direi che possiamo passare alla prossima mappa no? Ok va bene Andiamo Anche se io sarei rimasto qua altre due ore L'ultima mappa è di nuovo strana È ancora più brutta della prima No dai secondo me No io lo so già Lo so già È un po' più divertente Dobbiamo testare dei razzi Che fai? Che fai? Vieni dentro dai 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 Allora ti faccio scegliere il primo razzo Ok Allora in questo momento praticamente si lanciano razzi È un po' come la doccia Non capisci perché devi simulare di fare una doccia E qui non capisco perché devi simulare di lanciare dei razzi Non è che è questo Vieni fuori Ah sì ma è questo Ok Ma allora siamo noi che abbiamo problemi Lo vedi? È questo qui Ma fa schifo È perché partiamo dalle cose piccole È terribile Vienici sopra Eh volevo fare la stessa cosa Prova a partire pure io Magari mi diverto Pronta? No aspetta Sali Andiamo Verso l'infinito C'è ignorato totalmente Ma no Allora Sì È partito il razzo E quindi? E quindi ci siamo divertiti a vederlo partire Guarda quello Guarda il nostro cara Oh dai vabbè ora si ragiona L'altro sembrava Inizia a essere un po' più serio Sembrava capito Un lumicino di capodanno in confronto Capito? Quelle cose che accendi Guarda Lo faccio partire E lo posso guardare proprio dal razzo Vedi? Wow Eh? Dimmi che non è bella come mappa Mi sento come se stessi lavorando nella nase in questo momento E se dico che ti sta atterrando addosso Pazienza non mi interessa C'hai fatto esplodere? Sì esploda E beh perché lui va e poi torna Non c'è altro È una mappa emozionante Piena di avventure e di insidie Capisci? Abbiamo chiesto i razzi a questo qui che ha 32.000 punti Allora Aspetta Credo che sta scegliendo Ci permette di salirci Sappilo Ci sta permettendo di salire su uno dei suoi super mega razzi No vabbè No vabbè ma questo è gigante Sali 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 Eh vabbè Non riesco a salire Ma come si fa? Dammi una mano No devi venire bellissimo Ti stai dentro Non riesco Non riesco Devi mettere run Con walk non sale Grazie Vieni dentro Guarda come siamo seduti No Prendi posto Vai Vai sono pronto Portiamo Stanno facendo il controllo Revoice Hai visto? Ok stiamo andando Ok Launch off Però là è tutto liscio Stiamo salendo di quota Sì Bravissimi 800 di quota Continuiamo a salire Guarda c'è anche un razzo al nostro fianco Ma noi siamo più veloci e potenti Attenzione Verso l'infinite oltre Ma si può arrivare da qualche parte secondo te? Non lo so Non lo so Mi sto semplicemente godendo Guarda Ha rilasciato i boosters Ha buttato i boosters Adesso stiamo andando di propulsione normale Ok Quindi col razzo normale E fra un po' dovrà rilasciare anche credo questa cosa arancione Oh no Oh no Ok Oh no Ok sì stiamo cadendo Oh no Io vado tutto immobile Io sono fermo a 2400 anche tu E pure io E l'altro si è lanciato Quindi che si fa? Cioè ci hanno abbandonato In mezzo Probabilmente No In acqua in acqua in acqua in acqua in acqua in acqua No Quindi dai ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Fateci sapere se vi diverte appunto anche con le mappe brutte Così ci divertiremo a scegliere Oh a me divertono Mappe sempre più brutte Alla fine è divertente giocarle Anche se sono brutte Esattamente E ci fermiamo così Beh ragazzi Se piace così Lasciateci un like E se è la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.